I cittadini toscani devono sentirsi orgogliosi e soddisfatti perché anche proprio in virtù dei loro comportamenti oggi la Toscana si presenta come una delle regioni che meglio sta contrastando e sostenendo la pandemia con numeri che sono fra i più virtuosi in Italia. Detto questo però la pandemia c'è, molto si gioca sul senso di responsabilità delle persone in questi quattro giorni di zona gialla. È un Gianni rassicurante in versione natalizia per l'iniziativa della fondazione Tommasino Bacciotti al Meier quello che si rivolge ai toscani soddisfatto innanzitutto per il raggiungimento della gognata zona gialla che potremo capitalizzare per i prossimi quattro giorni. Niente panico dice Gianni innanzitutto alla gente per la giungla delle norme natalizie quelle arrivate dal governo e quelle interpretate dalla regione. In realtà come a Babbo Natale piovono le letterine, a lui piovono le email con le richieste di chiarimenti su come orientarsi. Una piccola task force è già al lavoro per cercare di rispondere a tutte. Altro capitolo, il vero regalo natalizio che la regione riceverà poco dopo Natale sono le prime dosi di vaccino da destinare ai sanitari. Il presidente fa il conto alla rovescia. Meno otto giorni da quando a Careggi alle sette la mattina arriveranno le prime 600 fiale di vaccino. 50 ciascuno saranno poi nel corso della mattinata portate nei 12 ospedali della Toscana.